Una campionessa d'Italia in carica, l'altra capolista imbattuta e dominatrice assoluta della massima serie fino ad ora. Desiderare di meglio non è possibile con Versano-Salerno e la finale scudetto per eccellenza quest'anno. L'evoluzione naturale di un campionato di serie A femminile che le ha viste costantemente ai vertici. In Coppa Italia non sono bastati 70 minuti in finale per decidere la sfida, poi conclusa ai tiri dai 7 metri con la vittoria delle pugliesi. In finale scudetto invece il cammino è più articolato e si apre domenica alla Pala San Giacomo con gara 1 in live streaming su Palamano TV dalle 19.30. Giussi Ganga e Lara Dallacosta tengono alta la concentrazione. Credo che saranno appunto una sorta di replica dal punto di vista dell'intensità. Sicuramente saranno due partite molto molto dure, la prima la affrontiamo in casa nostra, quindi avremo sicuramente uno spirito diverso rispetto poi a quella che andremo ad affrontare in casa appunto del Salerno dove ci vorrà sicuramente tanta determinazione per riuscire, si spera nel bene o nel male, a concludere questa finale al meglio delle due piuttosto che poi ad una terza. Sicuramente giocare una finale scudetto è un motivo di grande orgoglio e di emozione per un atleta. Abbiamo lavorato tutto l'anno per centrare questo obiettivo e siamo pronti a giocare tutto per tutto domenica. Ovviamente l'ultimo risultato ci vede sconfitte durante la finale di Coppa Italia a Bressanone, però proprio dopo la gara abbiamo imparato che tutti gli errori, tutte le palle sono importanti e stiamo lavorando appunto per commettere meno errori e per arrivare pronte al meglio appunto a questa partita.